e ciao a tutti ragazzi e benvenuti benvenuti carissimi videotubisti sono sempre io Mujahideen l'ultimo dei talebani napoletani ragazzi carissimi siamo sempre qui su survival questo gioco che mi sta apprendendo tantissimo come dicevo è veramente un gioco veramente molto 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 bello mi piace è il primo fee to play vero che ho trovato e volevo continuare a parlarvi di questo gioco quindi io ho sbloccato un bel po' di cose volevo raccontarvi di prima cosa che ho scoperto che ci sono anche delle armi rare come un RPG vedete questo bianco è normale questo verde vedete ha il colore verde ha delle potenzialità in più rispetto all'arma normale quindi come se fosse rara epica insomma infatti ha dispersione meno 2 e la velocità di mira meno 2% quindi ci sono varie volte che mi sono uscito come vengono fuori queste armi vengono fuori ogni volta che fate un match lo terminate c'è praticamente randomicamente un sorteggio e potete vincere qualunque cosa per quanto riguarda un'arma per quanto riguarda dell'abbigliamento come vedete qui c'è una verde addirittura guardiamo questo blu che sto usando è una KS74U blu che ha come caratteristica questo la ricarica al 15% in più veloce cioè quindi molto molto buono addirittura mi è uscita poi una KM già arancio secondo me deve essere proprio epico raro molto raro perché addirittura ha tre come dire caratteristiche in più la dispersione meno 4% weapon recall quindi rincurlo meno 2% e la riabilità più 5% quindi come vedete ci sono tante caratteristiche che tante caratteristiche adesso mi è venuta fuori anche questo non lo sapevo vabbè poi come vedete ci sono anche per quanto riguarda l'abbigliamento questo respiratore che è comunque epico quindi i pantaloni ne sono fatti epici il questo zaino particolare quindi ragazzi veramente ci sono questa caratteristica che non solo permette alle armi di che si logorano insomma no quindi si logorano quindi dovrete spendere dei soldi per per aggiornarle per aggiustarle e aggiornarle per esempio guardate questa pistola è danneggiata quindi io prevo il tasto destro la fixo e in genere c'è anche un tempo dice 731 monete per poterlo aggiustare ok faccio la fixo e farvi vedere e in genere vabbè questa volta me l'ha fatto ma in genere si prende anche del tempo 5 6 ore 10 ore 15 ore per poter riportare insomma per poterla aggiustarla completamente oggi siamo qui per parlare per parlarvi scusatemi ragazzi del t o z praticamente un'arma veramente particolare perchè il t o z 34 appartiene insomma la fazione degli scavengers e utilizza proiettili da 12 di calibro 12 per 70 mm e anche quelli sempre calibro 12 per 70 mm ma slug queste qui si sbloccheranno probabilmente in più avanti più avanti più avanti a un ratio di fuoco di 240 un caricatore di 2 proiettili e copre una distanza di efficacia di 30 metri provoca su singolo proiettile 100 di danno quindi con uno se è stato bene lo accoppate è un danno di 10 di penetrazione rispetto all'armatura e ragazzi è un'arma letale a corta e media distanza tuttavia bisogna secondo me stare attenti perchè ha una ricarica molto ma molto lenta il che equivale a morte certa se mancate il bersaglio insomma se volete mettere ciò nonostante voglio dire volete mettere la soddisfazione di quando prendete qualcuno in petto e voglio dire è una bestia quest'arma e guardate qualche clip guardate qui è è è è Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.